Proseguirono il cammino. In quell'immutabile luminescenza il tempo sembrava instabile e fluido. Potevano aver cavalcato per un minuto o per un secolo, ma il paesaggio così vago continuava a fluire intorno a loro. Finalmente il cigno scese a precipizio, atterrò con un tonante sventolare d'ali e divenne la Dea Nora. Sul suo volto si leggeva la paura. «Ho veduto un cavaliere piovanti», disse Ansimando, «un cavaliere di feri. Dir non saprei cosa lui voglia». Holger sentì che il cuore cominciava a battergli violentemente, ma riuscì a mantenersi calmo, almeno in apparenza. Lo scopriremo. Lo sconosciuto apparve sul crinale di una collina. Cavalcava un destriero alto e candido come una neve, dalla criniera fluente e dal collo orgogliosamente inarcato. Eppure c'era qualcosa che metteva a disagio nel suo aspetto. Aveva le zampe troppo lunghe, la testa troppo piccola. Il cavaliere indossava un'armatura completa e aveva la visiera abbassata che gli nascondeva completamente il volto. Sull'ilmo ondeggiavano piume candide, lo scudo era bianco e nero e tutto il resto era di un lucente blu notte. Si fermò e attese che Holger gli si avvicinasse. Quando il danese gli fu accanto, il cavaliere abbassò la lancia. «Fermati e dichiara il tuo nome». La voce aveva un tono risonante, metallico, disumano. Holger tirò le redini. Papillon nitri intono di sfida. «Mi manda la strega Mamma Gerde con un messaggio per il duca Alfrick». «Prima mostrami il tuo stemma!» esclamò la voce metallica. «Nessuno può giungere qui in incognito». Holger alzò le spalle per celare la propria inquietudine. Si piegò, staccò lo scudo e li infilò al braccio sinistro. Ugi tolse la tela che lo rivestiva. «Ecco!» Il cavaliere di feri fece impennare il cavallo, spronò e partì alla carica. «Difenditi!» gritò Ugi e balzò giù dalla sella. «Ha intenzione di ucciderti!» Papillon si scostò con uno scarto fulmineo, mentre Holger rimaneva ancora immobile, a bocca aperta. L'altro cavaliere gli passò accanto, con un tambureggiare di zoccoli. Poi si girò e ritornò di corsa, puntando la lancia in direzione della gola di Holger. Agì distinto. Abbassò la lancia a sua volta, spronò Papillon e alzò lo scudo per ripararsi. Lo stallone nero scattò in avanti. La figura dell'avversario si fece tremendamente vicina. La sua lancia si abbassò in direzione del torace di Holger. Il danese riabbassò lo scudo e piantò più saldamente i piedi nelle staffe. Si scontrarono con un clangore che scatenò mille echi da una collina all'altra. Holger sentì il proprio scudo piantarglisi contro lo stomaco. Per poco la lancia non gli sfuggì di mano quando urtò la visiera del suo avversario, ma la lancia di quest'ultimo andò in pezzi e il cavaliere di feri vacillò sulla sella. Papillon continuò la rincorsa sullo slancio e lo sconosciuto venne sbalzato. Si rivise in piedi immediatamente ed era incredibile che ci fosse riuscito, così appesantito all'armatura. Sfotrò la spada che sa e to si bilando. Ancora una volta non c'era tempo di pensare. Holger lasciò che il proprio corpo agisse di nuovo per estinto. Calò un colpo sul nemico appiedato e le due spade si scontrarono con un suono squillante come quello di una campana. Il cavaliere di feri sferrò un colpo contro la gamba di Holger e il danese riuscì a pararlo appena in tempo. Poi avventò la lama contro l'elmo piumato. Il metallo risuonò e l'avversario vacillò per un attimo. Colpire dall'alto era troppo difficile. Holger balzò a terra, ma un piede gli si impigliò nella staffa e lui cadde riverso sul dorso. L'avversario gli piombò addosso e Holger scalciò. Ancora una volta vi fu quel calangore di bronzo e il guerriero cadde. Si rimisero in piedi contemporaneamente. La lama del cavaliere di feri colpì lo scudo di Holger. Il danese mirò al collo cercando di trovare una fenditura tra le piastre metalliche della corazza. L'avversario mirò invece in basso, cercando di colpirlo alle gambe che erano scarsamente protette. Holger lo schivò e l'altro gli ripiombò addosso, vorticando la spada. Lui parò il colpo a mezz'aria e l'urto gli fece tremare i muscoli. La lama del cavaliere di feri schizzò via, ma l'uomo estrasse immediatamente un pugnale e scattò. Quella spada alla malarga non era stata creata per colpire di punta, ma Holger intravitò una fenditura sopra la gorgera del nemico e colpì. Miriadi di scintille schizzarono tutto intorno. La figura metallica ondeggiò, crollò in ginocchio, cadde sull'erba con un ultimo scroscio metallico e restò immobile. Stordito con gli orecchi che ronzavano, Holger si guardò intorno e vide il cavallo bianco che fuggiva verso oriente. Va a riferire al duca, pensò. Poi Ugi cominciò a ballare e a gritare, mentre Alianora gli si aggrappava al braccio, si inghiuzzando, e gli gridava che si era battuto splendidamente. Io, pensò Holger, non sono stato io. Io non so affatto come si maneggiano le lance e le spade. Ma allora, chi ha vinto questo duello? Bentornati alle Pergamene del Vecchio Stregone. Il brano in apertura è tratto da Tre Cuori e Tre Leoni di Paul Anderson. A parlare di questo autore e di libri collegati c'è con noi un ospite stasera, un autore italiano che è Pignatelli. Ciao a tutti, buona serata. In particolare, il collegamento che faremo è con... La serie di libro game del Cavaliere della Porta, editi da Space Orange 42, che sono appunto una serie di libro game nel mondo di Catacumbas. Sono però con un forte collegamento con Tre Cuori e Tre Leoni, questo perché, diciamo, c'è la stessa ispirazione di fondo. Tu non c'entrai, vero, immagino, con l'originale Catacumbas, che è dei primissimi anni Ottanta? Allora, sì. In pratica, cioè, questo progetto è nato in modo strano. Io nel 2015, mi sembra, ho fatto per Savage World una rielaborazione del vecchio Catacumbas storico degli anni Ottanta-Novanta, con il consenso di uno dei due autori ancora in vita, Il Massimo Senz'acqua, e dopo questo si è deciso di fare una serie di librogiochi, sempre, sempre appunto in quello stesso mondo, ma che ne andassero appunto a vedere una sfaccettatura un pochettino diversa. L'idea di prendere allo stesso spunto di Tre Cuori e Tre Leoni è dovuto, diciamo, a vari motivi. Uno è che sicuramente è stato a uno dei libri della mia infanzia e adolescenza che più ho comunque amato e che mi hanno, diciamo, avvicinato a questo tipo di genere. In più c'è proprio un aspetto in particolare del mondo di Catacumbas che si riflette in Tre Cuori e appunto in Tre Leoni, ovvero come nel gioco di ruolo di Catacumbas tu vai ad interpretare un personaggio che sei sempre a te stesso, che varchi una porta di livello e ti trovi in un'Italia fantasy un po' bislacca. La stessa cosa è stata fatta in Tre Cuori e Tre Leoni, con, diciamo, però un setting più nordico. Qui, invece, il protagonista è un americano che nel cuore del secondo conflitto mondiale si trova preso e spostato in un mondo fantasy nordico. Ora, tutti e due i personaggi fanno sempre comunque riferimento allo stesso personaggio storico, ovvero sia il personaggio di Holger, il danese, che è stato a uno dei paladini di Carlo Magno e uno di quelli, diciamo, dei quali si sa un pochettino meno. Se vai a cercare un pochettino sulle, diciamo, sulle varie pronache medievali, scoprirò alcune cose strane, tipo sembra che sia apparso in vari posti dell'Europa in momenti diversi. È probabile che non fosse alla stessa persona, probabilmente, ma solo a persone con lo stesso nome oppure con un nome simile. Però questo tipo di cosa si presta al meccanismo del pensare che ci sia questa specie di cavaliere che se ne arriva da un altro mondo che torna, con intervalli piuttosto irregolari, in un mondo fantastico per fare delle cose e, appunto, andare a vivere delle avventure. Ha dicendo qualcosa dell'autore, che è stato un grosso scrittore di fantascienza... Enorme, enorme, enorme. Ha prodotto tantissime opere... Tantissimo e del tipo più diverso, e del tipo assolutamente più diverso. Nato nel 26, è americano, morto poi nel 2001, ha vinto numerosi premi per le sue opere, sette volte premio Go e tre volte premio Nebula. Ha ispirato, tra le altre cose, Moorcock per alcuni aspetti della saga di Elric, tant'è che Moorcock stesso, nel tomone gigante di Elric, lo nomina nella dedica e poi nella introduzione. E poi compare anche... lo nomina anche Philip K. Dick, lo mette come protagonista di un racconto che si chiama La pulce d'acqua. È piuttosto bizzarro come racconto perché riguarda un po' vari scrittori di fantascienza. Insomma, citiamo tra i vari romanzi di fantascienza il ciclo della pattuglia del tempo. Oggi ci occupiamo di Tre cuori e tre leoni, come dicevamo, che è del 61, anche se prende il là da un racconto breve che è un po' più vecchio. In italiano è stato tradotto quasi subito. La casa editrice che ce l'ha avuto di più, se non erro, è stata quella che c'ho sotto mano, la Nord. La Nord l'ha pubblicata nel 79. E qui ho un'edizione con una bella copertina del mitico Frank Frazzetta. Allora, se ci puoi raccontare un po' di più di Tre cuori e tre leoni, che prende da un sacco di letteratura. Il romanzo di Tre cuori e di tre leoni si snoda per tutta un'Europa medievale che è simile ma è diversa comunque dalla nostra, in quanto è comunque un mondo che è sul limite di tanti altri mondi, ovvero c'è sia, diciamo, un mondo pseudo-reale e poi c'è una terra di mezzo in cui ci sono, ad esempio, le fate e c'è, sempre nel mezzo, la guerra tra il Sacro Romano Impero e tra i Saraceni. Il personaggio, appunto, di Holger si trova al centro di un conflitto che lo porta a far pendere da una parte o dall'altra il filo, comunque, della vicenda. Una cosa importante, ad esempio, di questo libro per il fantasy in generale è il modo particolare in cui va a trattare il tema della magia. La magia di Tre cuori e tre leoni sono formule matematiche che vanno ad alterare il tessuto, il tessuto, comunque, della realtà. Ed è forse uno dei primi scrittori di fantasy che va a trovare una spiegazione, se vogliamo dire, a come funziona la magia. Perché ci dobbiamo, comunque, ricordare che siamo ancora in anni, se pensi che la storia è comunque nata in forma di racconto nel 1953, in cui la distinzione tra fantasy e fantascienza non era comunque netta come è poi diventata in seguito. Se conti, sempre in quegli anni sono usciti un sacco di romanzi sempre un po' a cavallo di questo limite, tipo Stregone suo malgrado, Il mago di sua maestà, e, diciamo, era ancora un periodo sul limitare. Sì, noi abbiamo dedicato una puntata a Fritz Leiber, in particolare alle spade di Lankmar, quindi al ciclo di Faford e Graham Houser, e lì si vede che c'è una continua commistione con la fantascienza. Sì, 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 effettivamente, però sicuramente su Leiber comunque ha sempre un approccio più comunque volto verso quella che poi è diventata alla fantasy. In Paul Anderson, invece, c'è sempre questo aspetto più scientifico, questo tema poi della scienza, fa che tornare, c'è sempre, in tanti modi. Questa stessa storia di Tre cuori e di Tre leoni è stata anche presa, anche se non ti so dire se è partito sempre dallo stesso tema o se è partito proprio dal racconto Tre cuori e Tre leoni, ma comunque c'è un bellissimo fumetto di Toppi che va a riprendere la stessa storia di Holger e fa circa allo stesso viaggio e lo stesso percorso che si vede in questo libro, anche se sotto altri temi. Nominiamo qualche altro personaggio di Tre cuori e Tre leoni, perché poi Holger, una volta che arriva in questo mondo, trova alcuni compagni. Quasi tutti i compagni di Holger sono comunque presi da sto mondo qua appunto mitico, tipo la fanciulla che lui ama e appunto ha la principessa Elianor e appunto una fanciulla cigno che è proprio uno dei tipici personaggi della fantasy nordica. È appunto una donna comune che trova un abito magico fatto di piume di cigno che le permettono di assumere alla forma di appunto un cigno. Un altro personaggio chiave è il personaggio di Uji che è invece un nano, fa un po' la guida di Holger in sto mondo. La banda diciamo che lo circonda finisce con il personaggio di Karaue che è invece un saraceno che segue Uji per una buona parte del suo viaggio con un esito poi che appunto, che non vi dirò perché comunque la cosa che vado a consigliare a tutti è di leggere questo romanzo perché è sì datato ma è comunque un esempio di fantasy che secondo me si è conservato molto bene negli anni. E che poi è finito come parte integrante di Dungeons & Dragons perché non solo... Sì, le cose sono assolutamente tornate, assolutamente tornate, sì. Non solo la citazione proprio diretta di Holger e Uji nel numero, mi pare, 49 di Dragon Magazine e ovviamente compaiono come tratti da Tre Cuori e Tre Leone con tutte le loro statistiche ma poi in generale D&D ha preso più di una cosa la figura del palatino ad esempio e alcune cose dell'allineamento perché ci sono delle forze che si combattono tra di loro e da cui derivano alcuni allineamenti che poi ritroviamo... Allora, il classico confitto tra la legge e tra il caos che poi ci saranno a scrittori successivi tipo appunto Pivari Morco che questa gente qua che lo struttureranno comunque di più si trova per una delle prime volte in questo romanzo qua. Veniamo allora a Catacumbas. Sì. Come ti è venuto rifare il collegamento? È stata una cosa affettiva o piuttosto pianificata? Tutte e due le cose ovvero sia io sono partito dall'idea di andare a sfruttare uno dei punti forti di Catacumbas perché il gioco di Catacumbas non è esattamente un gioco di ruolo è un gioco di proiezione ovvero sia tu giochi te stesso in un altro mondo fantastico. Allora, sono voluto comunque partire da quest'idea mi è tornato in mente a Tre Cuori e Tre Leoni l'ho riletto nei mesi prima per tipo la quinta, sesta volta penso nella mia vita sono andato a scavare un pochettino nella vicenda di Oger il danese e ho capito che poteva essere proprio il personaggio giusto perché io la cosa che volevo fare era la storia di comunque un lettore del nostro mondo che entra in un mondo fantastico. Questo per una serie di motivi allora, il principale è che soprattutto quando fai un libro gioco devi cercare sia di far leggere la gente ma anche di farla giocare e ho cercato in questo modo di fare in modo che chi lo leggesse fosse con le stesse conoscenze del personaggio cioè tu entri in questo mondo qua appunto nel mondo appunto di Laizia che è appunto una versione dell'Italia cambiata ma sei già stato in questo mondo come appunto il cavaliere Oger un sacco di anni prima ma non ti ricordi più nulla quindi tutte le tue conoscenze sono le tue quindi tu non sai nulla del mondo che ti circonda e lo vai a scoprire appunto nel corso del gioco nel corso del gioco e questo meccanismo qua mi dà comunque modo di essere sia con una storia passata del personaggio perché tu sei già stato in questo mondo prima sei stato un cavaliere famoso sei però uscito perché sei appunto tornato nel tuo mondo reale ci ritorni molti anni dopo e non ti ricordi più nulla perché appunto nel passaggio tra un mondo e l'altro le conoscenze si perdono se non c'è una forte magia dietro che le suppone quindi si parte con lo stesso livello di conoscenza tra te personaggio e tre giocature poi sempre andando a sfruttare questo mito del cavaliere che gira per l'Europa e anche nell'Italia e che cioè appare e scompare ad intervalli magari di 15-20 anni era proprio la cosa perfetta perché era proprio un eroe mitico che torna per diciamo per salvare la frittata ora nel primo libro il cuore diciamo la massima ispirazione è proprio su tre cuori e tre leoni però poi allora il personaggio di Uger è cresciuto quando sono partito con il primo libro speravo di fare una serie ma non ne ero ancora così sicuro c'erano già tutti diciamo i vari collegamenti che erano diciamo erano già comunque pronti per un seguito ma subito non si sapevano nel secondo libro e anche nel terzo in pratica è sempre fatto su una regione dell'Italia diversa e anche con un'ispirazione di tipo letterario interamente diverso tipo nel secondo la vera ispirazione del secondo libro è la secchia rapita del Tassoni ovvero il conflitto tra la città di Modena e la città di Bologna per appunto il possesso della famosa secchia sulla quale io sono andato a fare attorno una storia strana nel terzo libro invece la vera ispirazione è invece all'Orlando Furioso c'è un personaggio importante dell'ambientazione che perde effettivamente il senno e il nostro Uger deve andare a cercarlo trovarlo e andare diciamo a mettere a posto le cose ecco voi la cosa che devi sempre raccontare è che comunque stiamo comunque parlando di un media che non è il romanzo non è il gioco ma è il libro gioco cioè una cosa sempre che deve andare a cavallo delle due cose perché deve sia essere un gioco quindi ci deve essere un elemento ludico di regole di meccanismi di scelte e anche una storia piacevole e abbiamo toccato tanti tante idee anche per una partita di gioco di ruolo senza altro beh sì 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 perché infatti allora sono allora io sono comunque partito dall'ambientazione del gioco di ruolo l'ho espansa ma anzi diciamo che più che l'espansa l'ho focalizzata in punti particolari appunto nel primo nel cavaliere della porta tutta l'azione si va a svolgere attorno al ducato di Torviero che sarebbe alla versione di Catacumbas di Orovieto e le zone limitrofe nel secondo libro invece è tutto appunto nella Milaia che sarebbe alla versione di Catacumbas ma dell'Emilia Romagna il terzo invece è particolare perché il fuoco sarebbe della storia sarebbe nella città di Maro ovvero sia di Roma in cui c'è all'imperatore di st'Italia strana mitica però in realtà una buona parte poi della storia va da Maro si va a spostare nell'arcipelago di Ponzia per una serie di ragioni particolari che sono legate a particolari leggende di quell'area lì beh parliamo un po' di più di questo mondo di Catacumbas sì allora il mondo di Catacumbas è nato in un modo particolare è nato dalla fantasia di appunto di Agostino Carocci e di Massimo Senzacqua che sono stati i due autori che negli anni 80 hanno tirato fuori quello che è all'incirca perché bisogna puoi capire mesi più mesi meno è comunque il primo gioco di ruolo fatto in Italia da gli italiani ci sono delle contestazioni di date perché probabilmente i signori del caos anzi è praticamente sicuro che sono nati qualche mese prima però sicuramente è il primo gioco italiano con un'ambientazione che sia interamente basata sul nostro folklore e non sulla fantasy nord il successo di Catacumbas è strano perché se lo vai a rileggere con gli occhi del sia appunto del lettore di narrativa ma anche del giocatore di ruolo del 2015 o cioè il 2020 è particolare perché è un libro che come si faceva in quegli anni lì non va a darti un'ambientazione completa ed esaustiva del mondo non troverai nel manuale di Catacumbas della L tutto un almanacco che ti descrive tutte le varie regioni no soltanto con il racconto delle regole e con la creazione dei personaggi con tre scenari sono riusciti a creare un affresco di un'Italia totalmente mitica che va a metà tra l'armata brancaleone il conto dei conti e tutte quelle fiabe e quell'insieme di diciamo di storie tradizionali che sono proprie appunto della nostra cultura in più c'è da dire che quella edizione ebbe anche la fortuna di essere con i disegni di Cavassori che fu un disegno che è ancora perché c'è e voglio dire è opera ancora che sono sì molto simili sempre a disegni sono comunque simili allo stile di Toppi che era comunque forse all'apice in quei momenti e si sposano comunque molto bene con quel tipo di fantasy cioè quando vedi quel tipo di arte allora fa subito che darti all'idea del Mediterraneo vero sì mi ricordo ancora la copertina che poi sostanzialmente è quella che è rimasta ma non è di Cavassori ma è di Jono che è appunto è l'autore che poi ha fatto tutta all'iconografia tutti tutti i concept dei film del del Signore degli Anelli e anche alla copertina della prima edizione dell'Unico Anello a parte questo pezzo qua straniero se vogliamo tutta l'arte invece sull'interno manuale è fatto da top scusami è fatto da Cavassori in gran parte più un altro paio di disegnatori però diciamo che i pezzi più famosi quelli più di impatto sono tutti i suoni di Cavassori e appunto questa esperienza qua del disegnatore particolare è stato sicuramente uno dei punti anche del nuovo Catacumba sia nel gioco di ruolo che anche nel libro game ovvero sia tutta l'arte di Catacumba è fatta tutta da Francesca Berald che è infatti se vedi sul allora in tutti i libro game lei fa che apparire assieme a me nel titolo per un motivo che ti spiegherò dopo però già nella riedizione del gioco di ruolo tutta l'arte del manuale a parte alla copertina che è di Jono è sua e questo ha dato comunque un look che è comunque molto caratteristico del prodotto sul libro game invece la collaborazione è stata ancora più stretta in quanto i libro game di Catacumba sono molto particolari allora io ho cercato di sfruttare al massimo le potenzialità del mezzo ovvero sia questa serie di libro game è senza dadi si basa su soltanto un meccanismo di spese delle risorse tu hai un tot di punti che puoi andare a spendere per capire quando vuoi fare un successo nelle tue azioni e quando invece cerchi di fallire per capire che cosa andrà a succedere ora su questo semplice meccanismo c'è inoltre tutto un meccanismo di arte ovvero sia tutta l'arte del libro e tutta parte appunto del gioco perché serve allora non soltanto a mostrarti l'aspetto estetico delle scene principali della storia ma in tutti questi disegni sono sempre celati o degli indizi o dei giochi o dei trucchi che servono a far andare la storia in direzioni in più a quelle che trovi soltanto nel testo ora questo tipo di meccanismo con il quale ho diciamo un po' sperimentato abbiamo io e Francesca un po' sperimentato nel primo volume nel secondo e nel terzo sono cresciuti ancora di più tipo siamo riusciti a fare diciamo un intero torneo di cavalieri nel secondo tutto su appunto un meccanismo che si basa sulle immagini di sti vari cavalieri che ti corrono incontro nel corso della giosta allora soprattutto sul secondo ma anche nel terzo pezzi della storia sono sia miei ma anche suoi voglio dire e diciamo allora in tutta questa serie c'è comunque una commissione di lavoro molto forte tra sia lo scritto e anche il disegno quindi si è andata un po' a diciamo a ripetere questa cosa del peso dell'arte nel appunto nel mondo di Catacumbas la serie finisce al terzo o avete il programma di continuare? la serie in teoria doveva finire al terzo in realtà abbiamo ricevuto un sacco di richieste per fare un quarto sicuramente non di quest'anno diciamo che ci stiamo pensando però per adesso non c'è non c'è non c'è non c'è diciamo ci stiamo ci sto pensando bisogna un po' vedere un po' capire diciamo che effettivamente un quarto volume ci potrebbe ancora stare in questo momento non ti so dire se ci sarà mai però effettivamente un quarto volume ci potrebbe stare intanto me l'han chiesto ci sono dei fili diciamo diciamo che ci sono dei fili narrativi ancora che non sono chiusi diciamo che per il momento non c'è però forse ci potrebbe essere diciamo così un'altra citazione penso che da fare lo stile narrativo e il personaggio ricordano una più vecchia serie di libri game che era quella di alla corte esattamente sì sì allora io ho preso a modello quella serie perché secondo me tra tutte le serie che sono mai state fatte di libro game sono quelle più belli dal punto di vista proprio della narrazione perché sono libri che ti diverti a leggere sono fatti con uno stile che comunque è molto scansonato e poi a differenza di altri libri dove il testo va soltanto a farti una fotografia del mondo in questi libri sono sono proprio a libri che ti parlano cioè c'è proprio alla voce di di uno dei personaggi appunto della storia nel caso di alla corte di re Artur c'è appunto il mago merlino che ti racconta la storia che tu leggi e io ho ripreso più o meno allo stesso metodo anche in questa serie di libro game secondo me è molto importante in questo tipo di narrativa fare in modo che ci sia sempre un dialogo continuo tra chi ti è lettore e il testo perché non deve essere soltanto una telecamera di un videogioco no il bello di questo tipo di media è che tu puoi avere e che tu puoi essere con un contatto più stretto tra il lettore e tra appunto allo scrittore io ora ho fatto il primo volume sempre con Francesca di anche un'altra serie di librogiochi che per ora è solo uscito in inglese che si chiama Survivor of Arborea che si va invece ad ispirare ad un altro autore del passato molto famoso che invece a Jack Vance ma comunque anche qua c'è sempre allo stesso meccanismo dove c'è il protagonista che non c'entra nulla con Ogere per un'altra cosa che ha però tramite un escamotaggio narrativo c'è sempre una diciamo c'è sempre un compagno invisibile con lui col quale fa diciamo che essere sempre con un dialogo e quindi la storia è molto più ritmata da leggere e molto più secondo me ti prende di più questo naturalmente ha anche un difetto se vuoi perché sono delle storie con con tanti dialoghi con tanti dialoghi mentre tipicamente il libro game è scevro di dialoghi anzi spesso i dialoghi sono sempre scritti con un discorso indiretto mentre invece in questi miei libri c'è sempre un dialogo continuo come in un romanzo vero questo però ti porta a essere con libri che sono mediamente molto spessi come come può vedere ringrazio Umberto Pignatelli per essere stato con noi e vi rimandiamo alla prossima puntata grazie ciao a tutti ciao a tutti